Da quando sono usciti Ryzen 7000 e gli Intel di tredicesima generazione, l'internet è praticamente esploso con topic del tipo ci vogliono dissipatori a liquido con radiatore da 360 mm, no non è vero, ci vogliono i 420 mm. Sì ma nessuno pensa alle paste termiche. Ma non vi preoccupate, perché oggi qui il vostro G ha messo alla prova ben 5 paste termiche per vedere quale fosse la migliore per il vostro nuovo processore. Stanco di questa scritta? SDKey è il sito a cui rivolgerti per le chiavi di videogiochi e software di cui hai bisogno. Digita nella barra di ricerca il prodotto da te desiderato, seleziona ciò che vuoi acquistare e clicca su acquista ora. Mi raccomando ricorda di usare il codice sconto punto per uno sconto del 25% su un prezzo già abbastanza conveniente. Dopodiché dovrai inviare l'ordine, scegliere il metro di pagamento a te più congeniale e notare come il tutto si svolga in maniera rapida, veloce, senza intoppi e come l'ordine arrivi molto molto presto nel tuo user center. Ma a questo punto come si attiva Windows? Basta scrivere attivazione nella barra di ricerca, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avete ricevuto prima sul sito. SDKey, fantastici. Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed oggi abbiamo una comparison fra 5 metodi di dissipazione per il vostro processore che potrebbero esservi utili o meno utili in base al vostro utilizzo. Partiamo subito col dire che non ho testato purtroppo direttamente un Ryzen 7000 o un Intel di tredicesima generazione perché non sono ancora in mio possesso, ma ho testato il peggior processore che io avessi in casa per quanto riguarda le prestazioni termiche. Cioè il mio Ryzen 7 5800X anche chiamato Blazing Inferno. Essendo il Ryzen 7 5800X un processore a singolo CCX attivo, le performance termiche saranno molto molto simili a quelle di un 7600X, un 7700X e ovviamente un 5800X 3D che è il processore che molte persone in effetti stanno puntando per creare la propria piattaforma da gaming. Comincio col dire che ho testato tutto con il mio Pure Loop 2 FX di Be Quiet, dissipatore a liquido con radiatore da 280 mm che dovrebbe essere secondo me al giorno d'oggi la base per i radiatori dei dissipatori a liquido. Se volete andare su un 240 mm vi conviene prendere un processore di qualche generazione prima, ma ad ogni modo basta cianciare e andiamo subito ai test. Ho testato 5 metodi di dissipazione per il vostro processore e alla fine decrederemo il migliore perché ce n'è uno che mi ha sorpreso, ma veramente tanto, e che è il migliore di tutti. Partiamo dal peggiore e cioè un pad in grafite. Come voi sapete, ed è questo qui il pad, questo qui è il Carbon Out della Thermal Grizzly. È semplicemente un pad in grafite che voi mettete sul processore e che praticamente si utilizza al posto della pasta termica. È questo. Cioè, voi lo dovete semplicemente mettere sul processore e questo qui fa il suo lavoro. Adesso, perché questo è il peggiore? Vi dico che ovviamente sul sito del produttore c'è anche segnato il coefficiente di scambio termico dei vari metodi che ho utilizzato. Il Carbon Out ha un coefficiente di dissipazione di scambio termico di 62,5 Watt per millikelbin. Ora, se voi non siete avvezzi a questo mondo, 62,5 Watt per millikelbin è tanto e molto di più rispetto alle normali paste termiche. Ma c'è un problemino. Il pad in grafite è solido rispetto alle paste termiche. Le paste termiche sono dei fluidi, quindi tendono a scambiare molto meglio il calore anche con coefficienti più bassi. Ma adesso andiamo a vedere un pochettino le performance di questo pad in grafite. Ho testato il tutto con il Ryzen 7 5800X, come ho detto, con tensione automatica stock, che è lo scenario peggiore nel quale potete mettere praticamente un Ryzen 5000, un Intel di dodicesima generazione, un Ryzen 7000 e un Intel di tredicesima generazione. Credetemi, dovete fare per forza un pochettino di undervolting. Ora, ho provato il tutto in tre modalità, idle, test multicore e test single core, per vedere un pochettino come il processore performasse. Con il Thermal Grizzly Carbon Out, quindi col pad in grafite, avevamo una temperatura in idle di 44 gradi, più o meno. Ovviamente, i test sono stati fatti tutti alla stessa ora del giorno, con circa 25 gradi fuori, quindi bene o male in casa potevano esserci 20 gradi. Sì ragazzi, siamo al 23 ottobre, ma fa ancora caldissimo. Ad ogni modo, 44 gradi in idle per il Carbon Out è una temperatura accettabile. Il problema è che quando si va a testare il tutto su Cinebench R23 in multicore, si raggiungono 90.4 gradi. Che cosa significa questo? Significa che c'è del thermal throttling. Il punteggio finale era 14867, con una frequenza però su tutti i core di 4.5 GHz. Nel test single core, sempre di Cinebench R23 invece, 57 gradi di picco, 1568 di punteggio e una frequenza che variava sui core più forti, ma che bene o male raggiungeva un picco di 4.7 GHz. Allora, questo pad termico non è la scelta migliore per un PC da gioco. Io ci feci già un video al riguardo e dissi che i pad in grafite come questo sono ottimi per un motivo, cioè non vi sporcate le mani quando dovete cambiare la pasta termica, perché questo appunto è solido, e secondo, questo non perde prestazioni nel tempo. La pasta termica invece si secca, si solidifica e ovviamente raffredda molto molto di meno. Questo qui no, questo mantiene le sue performance nel tempo. Se doveste avere un server a casa con processori che non vanno a frequenze altissime, questa è la soluzione che vi consiglio. Passiamo adesso alle paste termiche. Ho messo a paragone la Arctic MX4, ovviamente questa qui è una delle paste termiche più vendute perché rapporto qualità-prezzo fantastico, è la MX5. Al momento non ho la MX5 qui con me perché mi è stata prestata da un amico, io ho dovuto ridare praticamente la siringhina, io ho solo la MX4, ma vediamo un pochettino i risultati. La MX4 ha un coefficiente di scambio termico pari a 8.5 W per mK, che è molto molto più basso rispetto al padding grafite, ma essendo questo un fluido il calore riesce molto più facilmente a viaggiare da una parte all'altra, quindi dall'IHS del vostro processore al cold plate del vostro dissipatore a liquido o ad aria. Temperatura in idle della Arctic MX4 38.5 gradi, 43 gradi, bene o male la temperatura variava tra questi due valori, che sono temperature decisamente buone, migliori del Carbonaut, quindi del pad in grafite, e nel test multicore abbiamo avuto 80.5 gradi di picco, quindi 10 gradi meno rispetto al pad in grafite, con un punteggio di 14.945 e una frequenza su tutti i core pari a 4.6 GHz. Sono numeri, bene o male, standard per un 5.800X, e in single core 52.5 gradi di picco, con un punteggio di 1.566 e una frequenza sui core più forti che ha toccato i 4.75 GHz. Già queste sono delle ottime performance, ma allora perché Arctic ha tirato fuori una MX5 dopo la MX4? La MX4 è molto meno liquida della MX5. Oltretutto, vi svelo un segreto, queste paste termiche di Arctic, se messe sul processore e lasciate riscaldare, una volta che le andate a cambiare, beh, profumano. Non so perché rilasciano un profumo comunque molto molto piacevole. La MX5, dicevo, ha lo stesso coefficiente di scambio termico, quindi 8.5 W per mK, e ha avuto bene o male le stesse temperature in idle. Stiamo parlando di 38.5 gradi, 42.3. Bene o male, stiamo parlando della stessa pasta termica, che però fa raggiungere al processore gli 82.3 gradi di picco nel test multicore, un punteggio di 14.963, quindi finora questo è il punteggio più alto registrato, con una frequenza di 4.6 GHz, 52.5 gradi di picco nel test single core come la MX4, e un punteggio di 1.569 con i core che raggiungevano delle frequenze di punta di 4.83 GHz. Che cosa significa questo? Sebbene le due passe termiche abbiano avuto bene o male gli stessi risultati termici, addirittura la MX5 si è dimostrata un pochettino più calda della MX4, ha permesso un boost clock un pochettino più stabile. Questo secondo me è dovuto alla consistenza, alla viscosità della pasta termica, perché dovete capire una cosa, voi riuscite a capire la durata nel tempo della pasta termica anche da quanto è viscosa, da quanto è densa, e le altre due paste termiche che sono andato a testare hanno tra le densità più alte che io abbia mai provato in effetti su un processore. Ad ogni modo MX4 ed MX5 sono delle paste termiche ottime per i PC da gioco, non costano tantissimo, sono profumate, se volete metterlo come brazzo sono profumate, e soprattutto occorre cambiare praticamente la pasta termica sul vostro processore, io direi una volta all'anno se proprio fate rendering pesanti con il vostro PC, ma una volta ogni 7-8 mesi se proprio volete essere dei maniaci, quindi davvero approvato. La MX5 oltretutto essendo un pochettino più liquida permette magari dei boost clock più duraturi sul processore, non l'ho provato su una scheda video, ma sono certo che sulla scheda video potrebbe dare gli stessi risultati. Adesso vi parlo di un prodotto estremamente conosciuto, estremamente famoso ed estremamente performante, la Thermal Grizzly Hydronaut. Non fate caso al fatto che a me manchi il beccuccio, purtroppo mi è caduto a terra il siringotto e è saltato via. Questa qui è una pasta termica ad alte prestazioni, indicata per CPU e per GPU, infatti sulla mia 3080 dissipata al liquido io al momento ho questa pasta termica. E di colore grigio, è abbastanza densa e anche abbastanza umidiccia, quindi questo vi fa capire che è un composto che dura molto nel tempo ed effettivamente io da quando ho chiuso la mia 3080, stiamo parlando ormai a quasi un anno in effetti, perché l'ho chiusi a Natale 2021, non ho mai cambiato la pasta termica, ma non ci sono state temperature strane né in inverno, né in questa stagione, né in estate dove ha fatto molto molto caldo. Per cui è un prodotto in effetti che vi consiglio. Passando ai dati, il coefficiente di scambio termico della Hydronaut è 11.8 W per mK. 11.8 W per mK è un coefficiente molto alto, in effetti, rispetto agli 8.5 di Arctic, che tra virgolette non lo scrive nemmeno sul suo sito ufficiale, l'ho dovuto trovare io su internet, e la temperatura in idle del mio processore con l'Hydronaut applicata variava tra i 39 gradi e i 42 gradi. È tra le temperature di picco più basse in idle registrate fino ad ora, però voglio dire, è comunque una temperatura standard. Per quanto riguarda il test multicore, stiamo parlando di una temperatura di picco di 79.3 gradi, ed è la temperatura più bassa registrata fino ad ora, un punteggio di 14962, se vi ricordate la MX-5 ha fatto 14963, quindi potenzialmente lo stesso punteggio, una frequenza di 4.5 GHz su tutti gli 8 iCore. Il fatto che il clock raggiunto dal processore sia un po' più basso rispetto alla MX-5, ma il punteggio è lo stesso, significa che questa pasta termica riesce a tenere la temperatura per più tempo, semplicemente, e che quindi magari il clock di 4.5 GHz è stato molto più stabile rispetto ai 4.6 della MX-5, perché il punteggio fondamentalmente è lo stesso. In single core abbiamo raggiunto il punteggio più alto, con 53.1 gradi di picco, e il punteggio di 1578 sul single core, e una frequenza di 4.85 GHz. Io l'ho sempre detto, una volta che provi l'Hydronaut non torni indietro, perché è versatile, viene venduta anche in boccettoni belli belli grossi, e non la rimpiangete per nulla, sia per quanto riguarda le temperature al momento, sia per quanto riguarda le temperature sulla long run. Praticamente voi in un anno non avete bisogno di cambiare sta pasta termica, perché la sua composizione le permette di rimanere umidiccia anche dopo molto tempo, e le permette delle prestazioni molto costanti anche a distanza di mesi, per cui questo è un prodotto estremamente consigliato. Ma adesso vi faccio vedere la migliore pasta termica che io abbia mai provato, e non è la Thermal Grizzly. Per me è stata una rivelazione, perché l'ho trovata su Amazon, e non avevo idea che potesse essere così figa sta pasta termica. Eccola qui. Stiamo parlando della Thermal Right TF-X, suppongo, Thermal Paste. È una pasta termica con un coefficiente di conduttività termica a tensione di 14.3 Watt per millikelvin. Per farvi capire, è molto molto simile alla Extreme di Thermal Grizzly. Io quando ho visto questa cosa ho detto, vabbè non può essere, si trova su Amazon praticamente, la siringhina da 2 grammi, che dovrebbe essere praticamente abbastanza per 1, 2, 3 applicazioni, si trova a circa 12 euro. A meno che voi non facciate benchmark per vivere, voi non dovete cambiare pasta termica ogni giorno, quindi voglio dire, è anche un buon acquisto, viste le performance, ma adesso vi spiego. Sulla confezione, come starei vedendo in video, c'è scritto che bisogna fare dei pallini sulla superficie del processore, quindi sulla IHS, e poi stenderli con la spatolina che ci viene data nella confezione. Sinceramente parlando, questa è la pasta termica più densa che io abbia mai provato nella mia vita e con la spatolina non sono riuscito a stenderla. A quel punto che cosa ho fatto? Dato che ho fatto uno schifo di lavoro, ho messo un altro po' di pasta termica al centro e ho lasciato che la pressione di montaggio del cold plate, del dissipatore, che è perfetta, perfetta, non ho mai avuto problemi praticamente di surriscaldamento applicando la pasta termica così, spandesse comunque tutta quanta la pasta termica sulla superficie del processore. E porca miseria, penso di aver fatto una cosa più che giusta. Allora, avete presente la consistenza della Nutella in inverno? No, non sono impazzito, provate a lasciare un barattolo di Nutella in una stanza fredda. Quella è la consistenza di questa pasta termica, ma questa pasta termica permette al processore di avere la temperatura in idle più bassa che io abbia visto in questi test. Voi vi ricordate? Praticamente si variava tra i 38,5-39 gradi fino ad arrivare ai 43. Questa qui ha tenuto il processore in idle con una temperatura che varia dai 36,5 gradi ai 39 gradi. Di norma le paste termiche che sono così dense non hanno uno scambio termico così efficiente nel breve corso, ma questa qui appena messa era glaciale. Nel test multicore invece vediamo il punteggio più alto registrato, e cioè 14968 con 79,3 gradi di picco. Quindi, temperatura uguale alla Thermal Grizzly, però con dei punti in più, e una frequenza di picco di 4.63 GHz su tutti i core. Frequenza più alta, punteggio più alto, non così tanto alto come mi aspettavo, però in effetti tanta tanta roba. Invece per quanto riguarda il single core, vediamo la temperatura più bassa raggiunta da questo processore, e cioè 49,3 gradi, con un punteggio di 1576, due punti sotto la Thermal Grizzly, ma fondamentalmente stiamo parlando dello stesso punteggio, e 4.84 GHz sui core più forti. Che cosa significa? Che questa pasta termica, questa TF-X di Thermal Wright, a conti fatti, è la migliore dal punto di vista dello scambio termico. Vi ricordo che il test è stato effettuato utilizzando la stessa curva delle ventole per quanto riguarda il dissipatore, quindi voglio dire, i dati sono questi. Personalmente parlando, quale di questi metodi io vi consiglierei? Diciamo che, se siete dei veri e propri gamer, quindi giocate soltanto al PC, io penso che la MX4 e la MX5 vadano più che bene. Sono estremamente economiche, sono semplici da applicare, profumano poi, e sinceramente parlando, credo che voi dobbiate cambiarla una volta all'anno, se giocate soltanto col PC. Invece avete un server e il processore va a bassa frequenza, quindi bassa temperatura, io vi consiglio tranquillamente il Carbonaut Thermal Grizzly. Non lo dovete cambiare mai, quindi non dovete stare lì praticamente ogni tot di tempo a spegnere il server, a rimettere la pasta termica e non vi impiastricciate le mani. Se invece voi volete lavorare con schede video dissipate a liquido, processori che devono renderizzare, raga, la Hydronaut è una garanzia. Io la uso praticamente da oltre un anno, oltre due anni veramente, sui miei sistemi, c'ho ancora il boccettino che credo sia a un quarto e sinceramente parlando, è la migliore all around che io abbia mai provato. Se invece volete provare qualcosa di nuovo, raga, Thermalright TF-X ha una qualità veramente assurda e delle prestazioni ottime. ovviamente non l'ho potuto provare nel lungo tempo perché praticamente la pasta termica ce l'ho messa due giorni fa ad essere precisi. Magari poi quando ci sarà il materiale per poter parlare anche di prestazioni a lungo termine, vedremo magari di fare un video, di fare un update a questo. Detto ciò, queste sono le migliori paste termiche che potete trovare al momento sul mercato. non ho provato la Noctua perché non ce l'avevo sotto mano anche se mi sarebbe piaciuto ad essere sincero. Ho avuto brutte esperienze con la versione 1 se non sbaglio la H1 di Noctua se non sbaglio dovrebbe esserci la H2 in giro al momento e la prima non è che mi piacque così tanto però so che molte persone si trovano bene quindi non mi dispiacerebbe nemmeno fare una prova con quella. Ad ogni modo questi sono i dati. Se volete acquistare un nuovo processore non dovete soltanto pensare. al tipo di dissipatore che dovete montare dovete anche pensare alla thermal interface cioè l'interfaccia termica che permette al vostro processore uno scambio efficiente col vostro dissipatore. E magari chi lo sa un giorno potremmo rifare questi test con un Ryzen 9 7900X o magari con un Intel i7-13700K. Quel processore mi sta scimmiando parecchio sto quasi quasi pensando di vendere un po' di della strumentazione o comunque dei due PC per farmi una piattaforma Intel devo essere sincero. Detto ciò ragazzi io vi ringrazio per aver seguito il video fatemi sapere la vostra quale pasta termica avete sul vostro processore o sulla vostra scheda video. Ci vediamo alla prossima sempre qui sul punto di G sempre qui col vostro G e nulla mi raccomando rimanite sempre freschi ciao ciao belli ciao